In diretta da Piazza Monsignor Barillari, Festa del Fungo 2022 con un volto ormai noto, buonasera la signora. Buonasera, io sono Rossella dell'Agnoginnasio insieme a Teresa che è la mia aiutante. Buonasera, allora cosa consiste la vostra scuola per coloro che ci guardano per la prima volta? Allora, noi facciamo danza principalmente, varie discipline tra cui latinoamericano, danza del ventre o danza orientale, hip hop e danza sportiva di gruppo che sarebbe il latino a squadra. Poi abbiamo anche altre discipline tra cui il fitness e il karate che sta andando moltissimo quest'anno. Oggi che cosa ci farete vedere? Oggi facciamo un po' di hip hop e un po' di danza sportiva a squadra. Senta, dove avete la sede? In Corso Umberto I, 244 a Serra San Bruno. E senta un telefono? Sì, abbiamo pagina Facebook, Instagram e ovviamente il numero di telefono. che troverete su TcSocial. Come si chiama la scuola? New Gymnasium. Senta, per coloro che ci guardano sempre per la prima volta sono all'estero. Cos'è per lei la danza? Beh, è la mia ragione di vita, ovviamente. Va bene, grazie ancora e buon proseguo e buona esibizione. Grazie, grazie.